La gestazione avviata e buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, innanzitutto scusatemi perché avevo letto la pagina sbagliata del programma e pensavo fosse 45, quindi iniziamo benissimo. Vi ringrazio, ringrazio la Cisco per aver accettato il nostro panel, ringrazio Chiara Giorgi per aver accettato di fare da discussant a questo panel, un ruolo particolarmente utile per noi perché si tratta di un panel di ricerche in corso anche in stadi iniziali, ad esempio nel mio caso in particolare. Si tratta appunto, vi dicevo, di ricerche in corso il cui tema principale è quello dell'affermazione dell'università dei diritti sociali come cifra della grammatica politica in particolare nella seconda metà del Novecento. Quindi non si tratta di un progetto di ricerca nostro che riguarda la storia del welfare state italiano da un punto di vista istituzionale, ma piuttosto di un indagio sul rapporto tra i diritti di cittadinanza e i diritti sociali e sull'uso politico che viene fatto nel corso del Novecento dei diritti sociali. Abbiamo, ciò che hanno in comune tutte le relazioni all'interno di questo panel è la prospettiva di analisi trasnazionale, sebbene il cuore tematico delle nostre indagini sia il caso italiano sia l'Italia. E inoltre abbiamo scelto di dare al panel una prospettiva di lungo periodo ed è per questo motivo che all'interno del panel abbiamo scelto insieme di dare spazio a questo intervento, che sarà il primo intervento, quello di Samuel Boscarello, sulle società di mutuo soccorso. sul ruolo delle società di mutuo soccorso. Cedo subito la parola a Samuel Boscarello, che è appunto l'autore di questo paper, di questo intervento. Samuel è uno studente di dottorato della Scuola Normale Superiore di Pisa. Il suo intervento si intitola Forgiare i diritti sociali, cooperatori e politica nell'Ottocento Italiano. Grazie mille. Un momento. Sì, sì, no, il problema è semplicemente, dato che siete nella stessa casa, se Boscarello e Serena tengono entrambi acceso l'audio, c'è l'altro. Esattamente, infatti abbiamo risolto e abbiamo passato le cuffie. Allora, grazie mille innanzitutto. Comincio subito. Comincio subito dal 1977, quando un giurista ciecoslovacco, Karel Vasek, pubblico on paper, che si chiama Human Rights at 30 Year Struggle, una lotta trentennale, in cui Vasek propone per la prima volta un'interpretazione storica dell'evoluzione dei diritti umani, che poi sarà molto fortunata in sé. Sostanzialmente esistono tre generazioni dei diritti umani. La prima, diritti civili e politici, che vengono consacrati dalla rivoluzione americana e francese. La seconda, quelle dei diritti sociali, economici e culturali, che invece emergono nel corso dell'Ottocento con l'industrializzazione. E poi la terza, quelle dei diritti relativi alla solidarietà internazionale, ad esempio il diritto allo sviluppo, che emergono dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora, soprattutto negli ultimi anni la storiografia sta problematizzando questa classificazione, soprattutto per quello che riguarda il rapporto tra diritti sociali e civili politici. Cioè, non sembrano essere più che altro una seconda generazione che si innessa sul terreno preparato dai primi, ma invece qualcosa che nasce contemporaneamente ai primi. Charles Walton nel 2019 ha evidenziato come già dalle primissime fasi della rivoluzione francese, dopo il giuramento della pallacorda, l'agenda politica dell'Assemblea nazionale sia anche occupata da temi di rilevanza sociale, ad esempio come organizzare, se organizzare le distribuzioni di cibo agli indigenti e così via dicendo. Ora, se noi sposiamo questo punto di vista, ci risulta davvero impressionante come lo spazio tra l'affermazione dell'idea dei diritti sociali, dei linguaggi dei diritti sociali e la loro concretizzazione in policy, cioè l'apertura di spazi di opportunità politica per realizzarli, ci sia un oiato impressionante perché il primo sistema di assicurazioni sociali obbligatorie dotato di una certa coerenza e così via viene creato un secolo dopo praticamente nella Germania di Bismarck. Nel corso di questo secolo è interessante vedere come i linguaggi, l'idea dei diritti sociali sia un fiume classico che scorre sotto la superficie delle vicende politiche europee e emerge in certi momenti in cui la finestra delle opportunità politiche si apre, sembra aprirsi e soprattutto porta con sé vari affluenti, cioè varie tematiche che sono, possiamo dire, tre all'incirca. La tutela e il soddisfacimento dei bisogni primari, cibo, vestiario, casa, ma anche educazione, ad esempio. Il diritto al lavoro, i diritti del lavoro, quindi non solo il diritto a lavorare ma anche a lavorare dignitosamente. Tre, la tutela delle persone dai rischi sociali. Ora che cosa ha a che fare tutto questo con la cooperazione? Ma anche vale molto perché effettivamente queste cose che ho appena enunciato sono anche il core business del movimento cooperativo, delle società mutualistiche e così via dicendo. Ovviamente questo non significa che necessariamente cooperazione e diritti sociali siano strette da un legame positivo, dove c'è una c'è anche l'altra. In certi contesti sì, in altri no. Tutto dipende dal ruolo politico che viene attribuito alla cooperazione da parte di coloro che la praticano nei vari contesti sociali. E questo complica ancora più le cose perché, come sappiamo, sin dagli origini della storia della cooperazione questa abbraccia nel suo alvio le tendenze politiche più disparate. Questa eterogeneità si riflette in maniera plastica nelle vicende del 48 europeo, che in molti paesi aprono degli spazi di sperimentazione politica davvero senza precedenti, di cui la cooperazione si avvantaggia a piene mani. Vediamo in particolare le vicende di due territori che sono geograficamente vicini, ma molto diversi per le vicende che vivono in questo periodo di tempo. Il Regno di Sardegna è la Francia. Nel Regno di Sardegna la cooperazione si avvantaggia indirettamente della nascita e soprattutto della sopravvivenza dello statuto albertino, il quale, riconoscendo la libertà d'associazione, comincia a creare un habitat favorevole allo sviluppo di autonome istituzioni di ritualismo. Dunque la legittimazione politica su cui essa poggia si iscrive, potremmo dire, all'interno del quadro dei diritti civili. In Francia, invece, il 48 è molto legato ai diritti sociali, in particolare al diritto al lavoro. E questo legame passa attraverso una persona, nello specifico un personaggio che è Louis Blanc, socialista, politico, intellettuale, che si trova a far parte di quel comitato provvisorio che prende il potere nel 48 in Francia dopo la caduta della monarchia. Ora, la proposta di politica di Blanc è piuttosto complessa, ma al suo interno essa contempla i cosiddetti ateliers sociaux. Cosa dovrebbero essere? Delle istituzioni preposte a garantire il diritto al lavoro, prosciugare la disoccupazione e quindi eliminare la competizione di mercato tra i lavoratori. Gli ateliers sociaux sarebbero delle vere e proprie società operarie di produzione, quindi delle cooperative in fin dei conti, ma fortemente sostenute dallo Stato, anche in senso finanziario. Quindi, nell'idea di Blanc c'è questo binomio, cooperazione-Stato, che si sceglie una vicenda per garantire dei diritti sociali. Ora, nel 48 si apre effettivamente una finestra per la realizzazione di questa idea, anche perché a Parigi c'è un grosso problema di disoccupazione di massa, soprattutto di operai qualificati e via dicendo. Il neonato Ministero del Lavoro, di cui però Blanc non fa parte, costituisce gli ateliers nationaux che riprendono in qualche maniera il funzionamento di questa proposta politica, se non per un elemento. Cioè, appunto, il fatto che non sono socio, cioè non c'è nessun proposito di autogestione, di cooperazione al loro interno, il lavoro all'interno degli ateliers nationaux è rigidamente militarizzato e, per semplificare, sempre per il tempo, gli ateliers nationaux si rivelano un fiasco perché non riescono ad assorbire tutta la disoccupazione esistente, si rivelano dispendiosissimi, ingestibili perché non si sa bene che cosa far fare a tutti questi lavoratori, a giugno del 48 vengono chiusi. Questo provoca una sommossa popolare a Parigi che viene repressa duramente e la cosa interessante è che appena pochi giorni dopo, il 3 luglio del 1848, la Repubblica stanzia 3 milioni di franchi per lo sviluppo delle società cooperative di produzione. Qual è il legame tra gli ateliers nationaux e il loro fallimento e questa legge? Sicuramente c'è l'intento di voler ricostituire una forma di consenso popolare, di consenso operario, ma c'è anche un altro tema, cioè il fatto che dopo, nel momento post-depressione, le cooperative cominciano a essere intese e utilizzate come strumento di educazione degli operai al mercato. Vale a dire, se non c'è lavoro per tutti, se i salari non possono essere alzati oltre un certo limite, non è colpa del datore di lavoro, è il mercato che funziona così. E le cooperative diventano un mezzo di pedagogia, anche paternalistica, se vogliamo, che questa cosa la si riflette benissimo in un bel libro di Maria Grazia Meriggi, che si chiama L'invenzione della classe operaia, qui appunto con dovizia di fonti archivistiche, viene iscritto proprio questa consapevolezza da parte di coloro che mettono in moto questo processo. Ora, è affascinante innanzitutto vedere come, nel giro, nello spazio di pochi mesi, il legame tra cooperazione e diritti sociali può essere così stretto e allo stesso tempo così quasi conflittuale, quasi confliggente, come l'esito di luglio ci racconta. Ora, nei decenni successivi, non solo in Francia, questa seconda visione della cooperazione come strumento pedagogico, come strumento educativo, si afferma in misura maggiore, anche per il trauma del 48 francese, che in una qualche maniera a lungo si imponerà come il paradigma negativo. Io mi sono imbattuto in un libro nel 1872, scritto da un nostro collega, lo storico Gustavo Strafforello, è un libro sull'educazione economica degli operai, è rivolto agli operai. E Strafforello parla a un certo punto dei diritti, quali siano i diritti dei lavoratori. Sostanzialmente i lavoratori hanno il diritto a essere liberi, a non essere asserviti, in schiavitù. Tuttavia, non può esistere il diritto al lavoro, che è definito, cito testualmente, quel grande assurdo economico, che i francesi tentarono di mettere in pratica nel 48 e che andò a finire, come andrà sempre, nella guerra civile e nella dissoluzione sociale. Effettivamente, in Italia, il posto sull'Italia che è più il topic del panel, in Italia la classe dirigente liberale, che pur in misura crescente vede di buon occhio la cooperazione, dopo l'unificazione d'Italia, continua a vedere la cooperazione come soprattutto uno strumento educativo, per rendere i ceti popolari autosufficienti, risparmiatori, secondo i più progressisti, anche per educarli all'esercizio della democrazia e della libertà. Diventa una sorta di categoria del nation building, sostanzialmente, nonché anche un modo, dal punto di vista della classe dirigente liberale, per ricomporre una soluzione, se non la principale soluzione, per ricomporre il conflitto sociale senza chiamare in causa l'intervento dello Stato provvidenza, sostanzialmente. Anche l'inchiesta Franchetti Sonnino del 76 sulla Sicilia non si discosta da queste medesime categorie, sebbene spenda parole importanti sulla cooperazione e sui rimedi cooperativi. Tuttavia, proprio in Sicilia, avverrà un incontro molto innovativo e molto particolare, nuovamente, tra cooperazione e diritti sociali. Questo avviene tra la fine degli anni Ottanta e soprattutto negli anni Novanta. È una congiuntura in cui si contrappongono diverse crisi per il nostro paese, agraria, finanziaria, edilizia, lo scandalo della Banca Romana e via dicendo. Queste crisi si amplificano soprattutto in Sicilia a causa del fatto, insomma, tensioni irrisolte che vanno avanti da decenni, soprattutto nel campo della riforma agraria. Ma succede anche un'altra cosa, cioè che un segmento importante dell'elite intellettuale siciliana si radicalizza sempre di più. Prendo un caso nello specifico, che è Giuseppe Salvioli, eminente giurista che insegna all'Università di Palermo, che negli anni Ottanta viene in contatto con gli studi giuridici di un collega austriaco, Anton Menger, che è uno dei rappresentanti del cosiddetto socialismo giuridico, come lo chiamano Engels e Kaus, ma io anche occupo insufficienza. Ecco, queste nuove idee vengono assorbite da Salvioli, il quale nel 1890 attiene un discorso all'Università di Palermo sui difetti sociali del codice civile. Cioè, nell'ordinamento giuridico italiano non ci sono leggi a protezione dei cedi meno abbienti, sostanzialmente. Queste nuove idee permeano la coscienza politica di una nuova generazione di trentenni che non hanno vissuto le vicende del Risorgimento e che quindi non sono piattate da quelle parole d'ordine, ma da queste nuove idee e anche appunto dall'idea dei diritti sociali, questi nuovi diritti. Questo processo, questa emersione, la si vede perfettamente tra il 1892 e il 93, quando emerge il Movimento dei Fasci Siciliani, che porta con sé anche l'emersione di una nuova leadership politica, la quale imprima il movimento una certa linea direttrice e proprio all'interno delle sedi dei fasci avrà un nuovo coniuglio, almeno in due forme davvero innovative, tra cooperazione e diritti sociali. La cooperazione è una delle principali attività che vengono condotte all'interno dei fasci e si mescola con i diritti sociali, nel senso che viene nuovamente ripreso il tema di garantire, di espandere i diritti sociali attraverso la cooperazione. Faccio un esempio, Rosario Garibaldi Bosco, leader del fascio di Palermo, va in giro a dire alla stampa e ai giornalisti che i membri dei fasci hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita, a una mutua assicurativa sulla vita, all'educazione. È una tematizzazione nuova per il contesto siciliano, ma anche per molti sensi anche per il contesto italiano. Inoltre c'è anche un secondo tema che è davvero molto interessante, cioè all'interno dei fasci le antiche rivendicazioni contadine post-feudali, potremmo dire, si trasformano per mezzo anche della cooperazione in nuovi diritti del lavoro veri e propri. La feudalità in Sicilia viene liquidata negli anni dieci dell'Ottocento con essa gli usi civici, quei diritti collettivi che vengono esercitati dalle comunità contadine sui terreni sostanzialmente. La legge teoricamente prevede che per compensare la perdita degli usi civici parti dei terreni ex-feudali debbano essere quotizzati, sostanzialmente. Il punto è che questa cosa non viene fatta spesso dai comuni a causa dell'ostruzionismo degli attifondisti. Ecco, il tema delle quotizzazioni entra all'interno di uno, cioè è uno dei principali punti di conflitto all'interno del movimento dei fasci siciliani, tuttavia proprio durante queste vicende politiche comincia a trasformarsi, queste rivendicazioni cominciano a trasformarsi in qualcos'altro. Lo si vede perfettamente nell'operato di Napoleone Collaiani, deputato dell'attuale Enna, che a un certo punto in Parlamento si sta parlando della questione siciliana e dice, ma insomma, alla fine la quotizzazione non è neanche quello che servirebbe per i contenuti siciliani, perché insomma Collaiani sapeva che per le caratteristiche economiche anche mentali della Sicilia la proprietà diffusa sarebbe stata difficile ed attuale. Quello che vogliamo noi è la proprietà collettiva della terra e sebbene questa formula possa sembrare un po' astratta, si capisce bene andando a vedere che cosa fa Collaiani nella sua vita, che cos'è l'interno. Nel 1896, se non erro, Collaiani apre una cooperativa agricola chiamata La Madre Terra, che è una affittanza collettiva. Affitta grandi quantità di terra e poi le distribuisce all'interno tra i suoi soci. Ecco, il movimento delle affittanze collettive a partire dalle vicende dei fasci siciliani si estende capillarmente in Sicilia, viene utilizzato dai socialisti, viene utilizzato anche dai cattolici, che proprio dopo le vicende siciliane si sensibilizzano ancora di più, molto di più sul tema dei diritti sociali. Ho rintracciato una lettera aperta che viene scritta da un lettore della rivista internazionale di scienze sociali del Tognolo, che viene pubblicata sul giornale e in cui alla fine questo lettore dice, ma in fondo nel futuro Stato cristiano non dovranno essere garantiti anche questi diritti sociali. Quindi ecco che segmenti crescenti della società italiana si sensibilizzano a quest'idea. Vado verso la conclusione e ricordando in realtà, evocando solamente il fatto che in realtà perché questi linguaggi si trasformino in politiche vere e proprie devono ancora passare un po'. L'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale con un certo ritardo sulle politiche sociali rispetto agli altri grandi paesi europei. La mobilitazione di massa della Prima Guerra Mondiale apre l'opportunità per colmare il gatto. Tuttavia, l'avvento del fascismo bloccherà e in certo senso cambierà anche natura a questo processo che si sta mettendo in atto, ma qui mi fermo, rimando al bel libro della professoressa Chiara Giorgi, L'area Bavano, Storia dello Stato Sociale in Italia, che parte proprio dalla Prima Guerra Mondiale. Soprattutto lascio la parola alle mie colleghe. Grazie mille per l'attenzione. Spero di essere stato nei tempi. Grazie Samuel. Ora mi prendo la parola, è il mio momento. Abbiamo scelto di dare un ordine cronologico ai nostri interventi. Il titolo del mio intervento è Il Laboratorio Italiano, Welfare e pianificazione nella transizione alla democrazia. Si tratta di un progetto di ricerca che nasce da un progetto più ampio sul rapporto tra tecnici e politica nella storia dell'Italia repubblicana che nell'ultimo anno ho sentito l'esigenza di rimodulare sulla base di alcune letture storiografiche che hanno avuto un valore epifanico rispetto a questo tipo di ricerca. La prima è la raccolta degli scritti di Eugenio Colorni a cui è stato aggiunto un nuovo volume di recente curato da Luca Meldolesi e Nicoletta Stame. All'interno di questa raccolta di scritti di Eugenio Colorni, uno degli autori del Manifesto di Ventotene, c'è questa lettera di Colorni ad Altiero Spinelli del maggio 1943 in cui Colorni scrive all'amico compagno politico c'è un peccato diffusissimo tra chi è costretto a fare della politica nelle prigioni, nei confini, negli esili. È il peccato che chiamerei di ideologia, quello che suggerisce a tanti di ricercare il giusto dosaggio tra libertà e autorità, socialismo e democrazia. Anche tu vuoi dare della parola socialismo la più giusta e moderna definizione. Anche tu stai confezionando il tuo intingolo di socialismo condito di liberalismo da offrire in concorrenza agli altri. La politica, a mio parere, non procederà a forza di ritocchi il proprio edificio ideologico, mettendo alla pace la formulazione e la soluzione dei problemi eterni, ma tenendo l'occhio fisso sui fatti che si vanno svolgendo e cercando di influire su di essi con i metodi più efficaci e più spregiudicati. In questa frase, diciamo, di Eugenio Colorni all'interno di questa lettra, ma in realtà in tutti gli scritti di Eugenio Colorni, nel 1943, c'è una grandissima attenzione a come sarà la politica dopo la guerra e soprattutto al valore di svolta che è stato rappresentato dalla guerra nel cambiare il linguaggio, nel cambiare la grammatica politica anche e soprattutto al di fuori dei partiti. In questo discorso ci sono un po' tutti i temi che avevo appunto intenzione di affrontare in questo lavoro su tecnici e politica, che sono innanzitutto quello dello sperimentalismo in politica contro il settarismo ideologico. questa idea dell'importanza della collaborazione tra tecnici e politici nel nome della programmazione e della pianificazione politica e l'idea dell'importanza dei diritti sociali nel coinvolgimento politico delle masse. La riflessione riguarda quello che Albert Hirschman, un tecnico, un economista, cognato di Colorni e Spinelli, avrebbe definito l'atteggiamento del possibilismo, cioè questo atteggiamento di rimozione di tutte le gabbie mentali e ideologiche nell'approccio alla politica appunto di sperimentalismo continuo. Dicevo, sono tutti i temi al centro di questo lavoro di ricerca che avevo pensato che mi hanno costretta a riformulare questo progetto di ricerca, innanzitutto agendo sulla periodizzazione. C'è un saggio, una raccolta di saggi di Mariuccia Salvati del 2016 che si intitola Passaggi italiani dal fascismo alla Repubblica in cui la storica invita le nuove generazioni di storici a riconsiderare la periodizzazione dell'età contemporanea provando a rimuovere tutte quelle gabbie periodizzanti, tradizionali, di resistenza, fascismo, repubblica, e a provare ad includere nella narrazione della transizione alla democrazia proprio agli anni della crisi, proprio quell'abisso di cui parla Eugenio Colorni nei suoi scritti, proprio il momento in cui diversi italiani, diversi anche intellettuali, prendono consapevolezza della necessità di una trasformazione politica. E questo significa quindi includere l'intero decennio della crisi, quindi dal 1938 nella narrazione della transizione alla democrazia e di accentuare il valore di svolta periodizzante della guerra. Questo significa anche trasformare lo spazio di analisi. Io sono tradizionalmente una storica ottocentista, diciamo noi ottocentisti siamo abituati a considerare la guerra un momento di grande integrazione, di grande integrazione culturale e politica. La stessa cosa succede ovviamente durante i conflitti del Novecento, questo aspetto della guerra, della crisi, come momento di integrazione, in particolare legato al welfare state, è stato sottolineato nel numero di contemporanea del 2020, che era proprio dedicato, curato appunto da Chiara Giorgi, Ilaria Pavan e Giulia Moses, dedicato proprio al rapporto tra welfare e momenti di crisi. E perché un momento di integrazione? Un momento di integrazione perché ci sono diversi, diverse istituzioni a impatto globale che in quel momento si trovano ad interagire tra di loro e in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono ovviamente gli eserciti che arrivano nell'area mediterranea, ma ci sono anche le organizzazioni dell'umanitarismo professionale, in particolare penso all'Urra. Ed è il motivo per cui il mio lavoro sul ruolo del tema dei diritti sociali nella politica, nella politica appunto della futura Italia democratica, include un lavoro sulle fonti di queste istituzioni. Innanzitutto la Light Control Commission, perché la scelta di utilizzare questo tipo di fonte, che ovviamente è stata utilizzata molto per raccontare la guerra, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, può essere utile per un discorso sull'uso dei diritti sociali nella nuova grammatica politica italiana dell'Italia repubblicana. Perché all'interno di alcune commissioni della Light Control Commission si realizza un dibattito, un intenso dibattito tra agenti stranieri, tra militari ma anche agenti civili dell'esercito alleato in Sicilia e le classi dirigenti locali, in Sicilia nel Mezzogiorno in generale, che provano a riformulare le proprie proposte di cambiamento politico in dialogo con questi personaggi. Mi viene in mente in particolare il ruolo della sottocommissione istruzione, che è una delle sottocommissioni più attive all'interno della Light Control Commission e in cui alcuni personaggi della classe dirigente siciliana, ovviamente prefascista, e dell'esercito americano interagiscono nell'idea di trasformare l'Italia e il Mezzogiorno in particolare in un laboratorio di democrazia. Se si leggono le relazioni, la corrispondenza che è conservata all'interno del fondo della Light Control Commission, c'è una grande progettualità che riguarda in particolare la scuola, in cui si fa una grandissima attenzione al tema, per esempio, della scuola democratica di Dewey. Scuola democratica, idea della scuola nuova, della scuola democratica di Dewey, che è stata, per esempio, ampiamente studiata per quel che riguarda l'esperienza di Firenze o delle scuole nuove di Codignola, ma che è interessante anche studiare in relazione a Mezzogiorno per vedere come la scuola e la scienza in questo momento venga considerata un nuovo alleato della politica post-bellica. Gli intellettuali e i tecnici, abbiamo detto, vengono ampiamente coinvolti in questo processo di rimodulazione del linguaggio politico. Questo era stato particolarmente evidente negli Stati Uniti con i discorsi di Harry Wallace e del presidente Roosevelt rispetto all'era dell'uomo comune, questa idea del nuovo mondo che sta per nascere, cui protagonista è appunto l'uomo comune, il lavoratore, lo studente, la donna, o nel discorso del full freedom, delle quattro libertà di Roosevelt, che erano stati diffusi proprio grazie al ruolo di intellettuali, di artisti, in quel caso, che avevano prodotto una grande quantità di illustrazioni, di poster, che servono all'ufficio di guerra americano per proporre questa nuova progettualità politica. Non si tratta ovviamente di una, semplicemente di un'influenza esterna, comunque di un'imposizione dall'altro, di questo modello che fa del welfare il cuore pulsante di questo modello politico, ma si tratta di un dialogo, di un dialogo che è possibile leggere all'interno degli epistolari dei protagonisti di questo tempo. Vi dicevo tecnici, tecnici come quelli, per esempio, che lavorano all'interno dell'URRA. In particolare, mi sembrano molto interessanti, da questo punto di vista, appunto i documenti dell'URRA, e gli epistolari, ad esempio, di Chini. Chini è uno degli osservatori della prima missione esplorativa in Italia, che è stata studiata da Silvia Salvatici, sulla prima missione esplorativa in Italia dell'URRA, e all'interno del suo epistolario, con altri agenti che provengono da diverse parti del mondo, ma anche con diversi personaggi protagonisti dell'azione dell'URRA in Italia e italiani, è possibile vedere qual è la proposta politica che viene elaborata da questi tecnici, che è innanzitutto una proposta politica fortemente antipartitica. In particolare, questo tipo di atteggiamento antideologico e antipartito che dà valore preponderante alla dimensione sperimentale dell'azione politica, transiterà in alcune figure che saranno protagoniste della storia politica dell'Italia repubblicana e che proporranno la cosiddetta terza forza rispetto ai partiti di massa, tra tutti, ovviamente, Adriano Olivetti, che transita all'interno dell'URRA, o Riccardo Musatti, che è uno dei principali esponenti del meridionalismo. Bene, la mia ricerca, la mia intenzione, è quella di proseguire, seguendo i profili biografici di questi personaggi per cercare di comprendere qual è il loro contributo alla nuova proposta politica dell'Italia democratica. Credo di aver esaurito il tempo e quindi do la parola a Elena Serina, che è l'autrice del terzo intervento di questo panel, è studentessa della Scuola di Dottorato in Global History and Governance della Scuola Superiore Meridionale di Napoli, Federico II, e il suo intervento guarderà proprio al secondo dopoguerra, quello che succede negli anni del secondo dopoguerra, e si intitola per un'assistenza cattolica chiesa e diritti sociali dal secondo dopoguerra al concilio Vaticano II. Ok. Dunque, l'emersione del concetto di welfare negli anni 40 non lasciò indifferente la chiesa cattolica. Tal'interesse non era soltanto legato ad una semplice rivendicazione della tradizionale preminenza che la chiesa aveva sempre esercitato nel settore assistenziale, quanto piuttosto era anche legato alla necessità di orientare in senso cristiano i nuovi e nascenti modelli di stato sociale. Ecco perché ad assumere un posto sempre più centrale nei discorsi e nelle iniziative promosse dalla Santa Sede a partire dalla Seconda Guerra Mondiale fu la carità. Ora, con questo termine non si intende tanto una pura filantropia, quanto piuttosto un'idea di sviluppo integrale della persona umana che contemplasse accanto al soddisfacimento di bisogni materiali anche una forte componente religiosa e quindi indagare l'assistenza vaticana si rivela una chiave interpretativa innovativa anche per comprendere il rapporto e il confronto della Santa Sede e del mondo cattolico verso i nascenti sistemi di welfare. Proprio durante il conflitto in effetti Pio XII intensificò il proprio apparato caritativo che arrivò ad imporsi come un po' l'assistenziale sostitutivo in effetti alle esauste e ormai malfunzionanti istituzioni pubbliche assistenziali e nel corso della guerra emersi un inedito protagonismo cattolico proprio nel settore assistenziale che se da un lato avvicinò concretamente i cattolici alle nuove problematiche socio-economiche dell'età contemporanea dall'altro favorì sicuramente anche un aggiornamento da parte della Chiesa proprio del modo di gestire la carità. Questo accostamento emersi ancora più fortemente nel corso del dopoguerra fu infatti nel dopoguerra che il Papa promosse una capillare e articolata rete di organizzazioni caritative legate alla Santa Sede che potessero arrivare a imporsi come attori intermediari fra la società civile le istituzioni pubbliche statali e anche le agenzie umanitarie internazionali tutto questo proprio per dare una connotazione cristiana anche alle politiche di ricostruzione. Naturalmente questo avvicinò il mondo cattolico e lo inserì attivamente nel confronto con i cosiddetti nuovi diritti sociali e sistemi di welfare ma anche provocò un graduale ammuntamento dell'atteggiamento della Chiesa verso i poveri che culminerà nel Concilio Vaticano II quando appunto la Chiesa dei poveri arriverà a tutti gli effetti ad affermarsi nel discorso ecclesiale e si aprirà anche una nuova stagione di riflessioni e di studi proprio sulla carità. In questo contesto l'Italia si rivela un ottimo osservatorio per indagare il confronto della Chiesa con il principio poi concretizzatosi nell'articolo 3 della nostra Costituzione secondo cui spetta allo Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e in effetti la Chiesa esercitò un particolare grado di influenza nella costruzione del welfare italiano come mostra il caso della Pontificia Commissione dal 53 Pontificia Opera di assistenza definita da Piodorici opera a noi sopra ogni altra cosa cara ebbene la Pontificia costituì a tutti gli effetti la principale organizzazione caritativa legata alla Santa Sede per fronteggiare dapprima l'emergenza bellica e successivamente le urgenze della ricostruzione e ripercorrere la sua storia dalla sua fondazione 1944 fino al suo scioglimento nel 68 in effetti consente di indagare quegli intrecci fra carità e politica proprio per rintracciare le origini della Pontificia è necessario ripercorrere la sua storia in particolare le radici della Pontificia Commissione affondano nel 1943 quando in effetti venne sollecitata dall'incalzare degli eventi bellici nell'Italia centro-meridionale un'azione urgente e tempestiva del Pontificia proprio per assistere non soltanto i cittadini romani ma anche i propughi che sempre più in massa correvano verso la città nel giro di poco a tutti gli effetti Pio XII si distinse come difensore e guida della città di Roma proprio perché fu la Santa Sede di fronte ad inesorirsi di fatto delle istituzioni pubbliche a provvedere a reperire e convogliare verso Roma i vivere richiesti dalle urgenze dell'emergenza bellica e proprio per fronteggiare l'emergenza bellica aggravatasi dopo lo stabilimento della linea Gustav il 18 aprile 1944 Pio XII decise di istituire la Pontificia Commissione di Assistenza ai profughi proprio con lo scopo di assisterli nei loro bisogni spirituali e materiali la direzione della Pontificia venne affidata a una figura non casuale Monsignor Ferdinando Baldelli Baldelli già nel 26 si era distinto nell'operato assistenziale aveva infatti fondato l'Onarmo l'opera nazionale di associazione religiosa e morale agli operai e era riuscito proprio per la sua abilità sia nell'intessere abili contatti politici ma anche nell'organizzare il servizio sociale di fabbrica a imporre l'Onarmo con una delle principali effettivamente associazioni caritative e proprio l'esperienza e l'energia di Baldelli furono utilissime per allestire in tempi molto rapidi un apparato caritativo efficiente si pensi per esempio che in sole tre settimane la Pontificia riuscì ad assistere circa 200.000 profughi a schedarne altri 70.000 insomma l'efficienza e la presenza capillare della Pontificia fra la popolazione garantì alla Santa Sede di fatto un monopolio nell'erogazione di beni e servizi essenziali oltre a consentirle naturalmente anche di diventare l'unica autorità di fatto rimasta di riferimento non solo per la popolazione ma anche soprattutto per gli alleati appunto entrati a Roma proprio il 5 giugno e in effetti il fatto che come riassumerà Baldelli nelle sue memorie successive l'autorità del Papa arrivasse laddove gli stessi ordini delle autorità militari e civili non pervenivano proprio questo fatto fece in effetti guadagnare alla Pontificia il sostegno immediato degli americani questi ultimi infatti pur contro il parere degli inglesi scessero proprio la Pontificia come l'interlocutore privilegiato cui affidare la gestione e la distribuzione di beni e servizi provenienti dagli Stati Uniti la Chiesa potè così avvalersi dell'appoggio finanziario soprattutto di agenzie umanitarie internazionali l'URRA di cui Chiara ci ha parlato ma non soltanto queste ultime furono molto utili alla Pontificia per promuovere un'attività di assistenza che si stava sempre più espandendo verso tutte le fasce di popolazione furono infatti essenziali anche i tattolici americani in particolare il vice direttore esecutivo della Caccia per Life Services Monsignore Edward Armstrong che collaborò strettamente con Baldelli anche nel corso degli anni 50 provvedendo quindi a non solo a visitare l'Italia ma anche a inviare a Baldelli una cospicua a somma di denaro qualora fosse necessario per fronteggiare le varie emergenze cui la POA dovette intercorrere in effetti anche nel dopoguerra ora per coordinare al meglio tutte queste vaste attività assistenziali Piodori ci decise di unificare la Pontificia Commissione di Assistenza ai Profughi con quelle reduci e nel 45 venne effettivamente istituita la Pontificia Commissione di Assistenza quest'ultima si ritrovò subito a gareggiare per così dire con i rinascenti organi amministrativi italiani e in effetti in questa gara numerosi furono i tentativi anche della prima di limitare l'operato dello Stato si pensi e qui posso fare un solo esempio che nel 1946 la Pontificia ottenne grazie a 20.000 quintanni di grano distribuiti alle popolazioni più povere l'impegno dello Stato a contribuire per metà delle spese di gestione dei famosi riflettori del Papa questo è solo un esempio che ci dimostra come progressivamente la Chiesa era riuscita a ritagliarsi uno spazio in affetta molto importante nella gestione del sistema assistenziale un'assistenza che però la Chiesa conduceva su un doppio binario accanto cioè all'assistenza materiale anche e soprattutto quella spirituale Pio XII stesso lo rivadì più volte anche nell'incontro con il presidente dell'URRA che due volte nel 1945 si recò in visita al Papa a Roma e oltre a presentarsi come il principale garante nella gestione dell'assistenza in particolare dell'emergenza bellica Pio XII propose la Chiesa e il cattolicesimo come l'elemento indispensabile per riformare la società post bellica insomma l'orientamento era sempre quello di un ripristino di una società scristiana e proprio questo fu in effetti il leitmotiv che contraddistinse anche l'attività assistenziale della Pontificia Commissione nell'immediato dopo guerra quando cioè le attività della Pontificia Commissione andarono ampliandosi e diversificandosi estendendosi cioè per esempio anche agli operai disoccupati dei cantieri di lavoro al personale piatto viario a braccianti e pastori e soprattutto anche all'infanzia ma ora quello che ci interessa per ragioni di tempo è indagare più da vicino questo convivio tra assistenza spirituale e materiale e per farlo mi servirò di un esempio molto calzante quando cioè nel 1951 la PCA intervenne tempestivamente nell'organizzare i soccorsi per le popolazioni colpite dalle alluvioni della zona del Polesine ebbene Bandelli si preoccupò immediatamente non solo di fornire assistenza ma anche di darne ampia risonanza non solo attraverso Caritas appunto il mensile organo di stampa dell'organizzazione ma anche attraverso la televisione nazionale del 19 aprile per esempio fu un discorso trasmesso dallo stesso Bandelli in cui quello che ci interessa è il fatto che Bandelli rimarcò non tanto il primato e l'efficienza della Pontificia Commissione quanto piuttosto rimarcò la necessità di vincolare la ripresa a valori cristiani con l'obiettivo ovviamente di riaccostare la società del cattolicesimo tutto questo anche in funzione anticomunista e proprio per questo quindi l'assistenza della Pontificia non si limitò soltanto all'invio di coperte viveri e veri di prima necessità ma anche per fare un esempio all'invio di migliaia di messarini immaginette votive 75.000 crocefissi addirittura vennero inviati nel 51 nel Polesine insomma questo ci fa capire come la PCA effettivamente si fosse diffusa a livello capillare tra la società ampliando anche i propri settori e le proprie fasce di influenza ma per gestire tutto questo era necessario dare alla PCA uno statuto più definitivo più permanente se vogliamo e proprio per questo il 15 giugno del 53 la PCA venneretta in persona giuridica e motò denominazione in Pontificia Opera di Assistenza questo non è un dettaglio diciamo perché il riconoscimento giuridico marcò in effetti un decisivo turning point nella storia dell'assistenza veticana e riconobbe come organo permanente sempre legato alla strettamente legato alla Santa Sede un organo di carità del Papa che avesse quindi il compito o l'accanto all'assistenza materiale di propagandare anche quel ripristino di valori cristiani nella società e di orientare quindi anche le politiche sociali in questa direzione questo ripristino cristiano in realtà sottittendeva un'altra questione centrale nel dibattito cattolico di quegli anni vale dire appunto il ruolo il rapporto tra la dottrina sociale della Chiesa e i cosiddetti nuovi diritti sociali ora accanto all'ala più intransigente a cui lo stesso Baldelli faceva riferimento che cioè per dirla molto in breve rivendicava la preminenza della carità sul diritto emersa infatti un'altra che si affermò sempre più progressivamente negli anni cinquanta e di quest'altra possiamo citare padre Raimondo Spiazzi un delegato regionale della POA e il suo esempio è significativo per farci intuire quelle sfaccettature che esistevano anche all'interno della pontificia opere di assistenza che non va letta quindi come un unico blocco uniformemente legato alla visione tradizionale della carità ebbene stiarsi proprio nel convegno dei delegati della POA del cinquantaquattro intervenne sostenendo che compito dello Stato moderno era proprio quello dell'assistenza pubblica vediamo quindi come l'ala puriformista guadagnò terreno negli anni cinquanta e questo il coronamento diciamo di questo guadagnamento di terreno fu effettivamente nel concilio Vaticano II il scioglimento della POA nel sessantotto fu sintomatico effettivamente del clima post conciliare il tipo di assistenza della POA mai era inadeguato ai nuovi bisogni sociali ed effettivamente essa non era più quello strumento di conquista e di espansione che era stato negli anni cinquanta e qui chiudo scusandomi per leggero ritanto ok diamo allora ora la parola a Silvia Enaudi assimista di ricerca alla scuola normale superiore di Pisa il suo intervento si intitola povertà, welfare e diritti sociali in Italia due inchieste a confronto dai Silvia il microfono ok scusate buongiorno a tutti la mia riflessione si pone diciamo sono alcune prime note si pone all'interno di un progetto che è appena appena inizia cioè è appena in nuce è veramente in nuce e sta prendendo forma un progetto trasnazionale che riguarda la povertà e la lotta alla povertà nel praticamente le trasformazioni del welfare dopo diciamo la cosiddetta golden age del welfare alla luce dei programmi contro la povertà della commissione economica europea in questo caso ho deciso appunto di portare una buavissima riflessione critica sulla prendendo diciamo confrontando due inchieste sulla povertà che sono separate appunto da un periodo trentennale che sono quindi l'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia dell'inizio degli anni cinquanta e il rapporto sulla povertà in Italia che è stato sulla povertà in Italia del 79-80 edito poi nell'82 curato da Sarpellon che è stato appunto prodotto per iniziativa della comunità economica europea proprio all'interno del primo programma europeo di contrasto alla povertà questo trentennio come tutti sappiamo è un trentennio di enormi cambiamenti economici sociali e culturali ha conosciuto un'espansione di politiche e interventi del welfare di sostanza anche nel nostro paese ciò nonostante ciò che ci mostrano le due cioè ciò che ci mostra il confronto tra le due inchieste che il problema della povertà ritorna ed è urgente sembra tra l'altro essere un problema che comunque rimane parzialmente negretto dall'agenda politica nonostante appunto questi cambiamenti che indubbiamente ci sono stati questo sviluppo economico e sociale che indubbiamente c'è stato nel nostro paese ora il uno dei uno delle motivazioni cioè uno degli obiettivi del mio progetto è quello di riflettere sul non sono sulle riflessioni teoriche da un lato sulle riflessioni teoriche sul concetto della povertà e dall'altro sull'esistenza di stereotopi nazionali e culturali specifici riguardo riguardo dei poveri e sulla loro rilevanza nel discorso della povertà e quindi poi anche sull'influenza nel dibattito e soprattutto nell'iniziativa nell'iniziativa politica quindi diciamo come le domande sono non solo che cos'è la povertà ma come si sviluppa il discorso su di essa e sui mezzi per combatterla e nella più ampia riflessione appunto sulle politiche sui diritti sociali e in ultimo ordine anche sulla questione della cittadinanza della cittadinanza stessa c'è da dire che ponendo a confronto queste due inchiese è chiaro che il panorama di riflessione teorica sulla povertà è assolutamente mutato perché a partire praticamente dalla metà degli anni settanta il problema della povertà persistente che non è un problema solo italiano ma è un problema che si ritrova in tutto Europa perché a metà degli anni settanta sono circa trenta milioni i poveri in Europa ed è un problema che quindi non può essere considerato residuale né come un effetto paradossale non il cosiddetto paradosso dell'opulenza ma evidentemente qualcosa che lo sviluppo economico e sociale nei paesi occidentali non solo l'Europa ma anche negli Stati Uniti che in quegli anni dove si sviluppa la riflessione sulla povertà partì appunto dagli anni sessanta è un problema appunto che si è cronicizzato e che riveste comunque appunto un aspetto importante a partire dalla metà degli anni settanta ci sono studi famosi che tutti noi conosciamo quelli di Senna quello di Townsend che sono fondamentali per archiviare almeno a livello di riflessione teorica se non politica la stagione della spiegazione antropologica della povertà ovvero che le cause della povertà abbiano le loro basi nella cultura stessa dei poveri ma anche per andare oltre ad una nozione economicistica della povertà assoluta e a una nozione di povertà relativa intesa come soggetto di sentimenti individuali di deprivazione la seconda la seconda inchiesta lo vedremo in realtà partirà a fara proprio tutto questo questo bagaglio per elaborare una definizione molto più complessa di cos'è la povertà e dei mezzi che bisogna appunto porre per combatterla dal punto di vista teorico non è quindi paragonabile l'inchiesta parlamentare sulla miseria dell'inizio degli anni cinquanta anche per lo scarso sviluppo come sappiamo delle scienze sociali nel panorama italiano ed è evidente che l'inchiesta sulla miseria risente della visione monodimensionale della povertà che dal punto di vista degli studi quantitativi viene definita ancora in termini economici assoluti anche se il dislivello praticamente il dislivello macro regionale in particolare tra l'Italia centro-settentrionale e il meridione fa sì che i parlamentari e i tecnici chiamati per analizzare il fenomeno stemperino diciamo il riferimento al reddito come diciamo come valore su cui misurare la povertà con un'adozione di indicatori reali che quali ad esempio i dati sulle abitazioni i consumi alimentari e l'abbigliamento in modo da dare una rappresentazione più efficace del dualismo italiano l'inchiesta sulla miseria l'hanno sottolineato in tanti per primo Bragin poi Forgers anche sull'ultimo lavoro sulla marginilità non è esente da stereotipi sul proveri e sicuramente a molti tratti più descrittiva che prescrittiva c'è una carenza di analisi sulle cause che costituisce probabilmente è stato evidenziato il suo principale limite per gli storici comunque è un documento preziosissimo per la conoscenza delle condizioni di vita dell'epoca e secondo me ha una sua rilettura nonostante i limiti si presenta molto più ricca di stimoli di quanto diciamo gli fiascia credito in particolare la trasposizione del dibattito politico dei risultati dell'inchiesta a partire da quella relazione generale dove viene affermato che le cause della miseria sono sempre le stesse ozio, ignoranza malattia in abilità fisica e psichica proprio in quest'ordine o anche nel film che poi è stato che è stato girato diciamo come complemento all'inchiesta le parole dello stesso Vigorelli al presidente della commissione dell'inchiesta del socialista adesso Vigorelli che afferma che mentre la povertà è una condizione in uno stato economico la misera è più profonda caratteri sociali e perfino morali si riconosce nell'accattonaggio nel sudiciume nell'ignoranza nella prostituzione nel delitto è un problema che ha sempre in quest'ordine cause personali e cause e cause sociali è chiaramente un tono completamente diverso da quello che si riscontra nel rapporto degli anni 80 che appunto prova a valersi di un background decisamente più affinato di riflessioni teoriche di strumenti di analisi e che si presenta alla fine di un periodo di cambiamento socio-inculturali imponenti che hanno contribuito a ridefinire in termini politici generali la questione delle diseguaglianze e dell'emerginazione sociale il rapporto dell'ottanta adotta una definizione multidimensionale della povertà in allineamento con le linee guida europee è una definizione che pur partendo comunque da una dimensione necessariamente quantitativa perché in qualche modo la povertà deve essere misurata contempo la povertà come un insieme di mancanza di risorse tale non solo da poi crudo a un livello di vita considerato dignitoso rispetto al momento storico sociale ma da scrudo e famiglie intere categorie dalla partecipazione alla vita sociale è praticamente una definizione che si rifà alla riflessione teorica che viene adottata dalla comunità economica europea e che porta poi a ridefinire nel corso pur con qualche polemica nel corso dei tre programmi europei la povertà in termini di esclusioni sociali cioè un termine che praticamente sottolinea il fatto che la povertà sia un fenomeno strutturale e complesso di esclusione dalle arene strategiche della partecipazione sociale e che quindi richiede strategie multidimensionali per essere per essere combattuta per quanto riguarda i risultati sono entrambi eclatanti e suscitano ovviamente scandalo nell'opinione pubblica addirittura quelle degli anni 80 suscita anche in alcuni casi l'incredibilità il fatto che alla fine degli anni 70 ci sia ancora un così alto numero di poveri sappiamo che negli anni 50 l'inchiesta vede che l'11,8% della popolazione quindi circa 6 milioni vivono gli italiani vivono nella miseria altrettanti quasi in condizioni disagiate c'è chi si dice e c'è chi ritiene che questi numeri fossero addirittura rotondati per difetto la preponderanza diciamo nella cosiddetta classifica della povertà è quella del sud dove risiedono dove risiedeva negli anni 50 il 50,4% delle famiglie povere rispetto al 5,4% dell'Italia settentrionale questo fa sì che tra l'altro a livello di dibattito politico in particolare fra le sinistre la questione della povertà venga diciamo messa parzialmente in ombre negli anni 50 e anche negli anni 60 dalla preeminenza della discussione del dibattito politico sulla questione dello sviluppo economico all'interno della questione meridiale piuttosto che su quella dello sviluppo del welfare questo diciamo è un primo fattore di ostacolo diciamo a una ricerca di una comprensione maggiormente globale del problema della povertà in quegli anni oltre a mente a tutte le opposizioni conservatrici soprattutto di stampo cattolico fuori dentro il Parlamento e agli interessi politico e clienterari che hanno costituito un potente frenamano verso diciamo riforme del welfare a partire da questa di questa inchiesta nell'inchiesta degli anni ottanta sono circa otto milioni gli individui lasciati indietro da questo modello di sviluppo completamente diciamo squilibrato e è ancora una volta il mezzogiorno che svetta nella classifica di quello che appunto gli osservatori non esitano a chiamare senza mezzi termini miseria anche se appunto la dimensione multidimensionale della povertà consente di far risaltare altri tipi di povertà che magari possono essere considerati relativi rispetto a quel mezzogiorno ma sono sempre povertà quelle diffuse al centro nord in particolare riconducibili ai cambiamenti sociodemografici e quindi in quel caso nel nord si riscontra particolarmente la povertà di anziani soli o ad esempio di madri sole con figli a carico questo rapporto agli anni ottanta a questo rapporto agli anni ottanta prendono parte sociologi economisti e brossino storici come Pombeni e Camarano e da questo punto di vista rappresenta veramente una riflessione a tutto tondo in cui alle indagini qualitative e quantitative sul fenomeno al fine degli anni settanta sono affiancate riflessioni approfondite di lungo periodo sui fattori che determinano la povertà sulle linee che ha seguito lo sviluppo italiano sulle politiche messe in campo ma anche sugli atteggiamenti politici e culturali verso la povertà da parti di partiti sindacati chiesa cattolica e opinione pubblica in genere diciamo che quali risultati appunto hanno dato quali risultati hanno dato le due inchieste negli anni cinquanta non riesce a vedere la proposta di una creazione di una commissione interparlamentare che tenendo conto dei dati emersi dall'inchiesta elaborasse un piano organico come diceva la proposta presentata per un sistema di sicurezza sociale che nei settori dell'assistenza sociale igiene sanità previdenza preparazione professionale desse graduale applicazione ai principi sanciti della costituzione questo per diciamo le opposizioni politiche non vide la luce però mi sembra interessante sottolineare che nel cinquantacinque in compenso vide la luce su proposta di due deputati della DC Buttee Calvi Calvi segretario della CISO di Milano una commissione interparlamentare sulle condizioni dei laboratori mi sembra un evidente segno di come la preeminenza della matrice cooperazionale nel dibattito politico di quegli anni fosse non solo tra le sinistre un ostacolo rilevante quanto dal punto di vista culturale e politico quanto forse gli interessi politico-finanziari per quanto riguarda la maturazione di una visione culturale globale e quindi di conseguenza la maturazione di una politica generale di contrasto al problema della povertà per quanto riguarda il rapporto dell'82 questo invece vede la nomina della cosiddetta commissione di inchiesta Gorieri a cui partecipano appunto anche lo stesso Saperlon e Chiara Saraceno che dà delle indicazioni che però non saranno tradotte in misure concrete mentre l'inchiesta sulla miseria prevedeva preeminentemente una diciamo razionalizzazione del sistema di welfare gli obiettivi che si pongono nel rapporto dell'82 sono più alti perché praticamente si dice finché non si vorrà dare la rilevanza politica alla constatazione che la società genera la povertà al tempo stesso la sfrutta in parte la tollera non può esserci politica economica e sociale che tenga e quindi si tratta di una politica che deve andare oltre al di là delle auspicate riforme sociali ripensare proprio il modo di coniugare sviluppo e razionalizzazione quali sono i diciamo i due principali scusate abbiamo finito il tempo ah vabbè chiudo dicendo che secondo me ci sono due elementi di continuità uno è il peso del sistema di welfare e l'altra è la diciamo la propensione la politica a correlare le prestazioni sociali a un'interpretazione economicistica dei rapporti sociali e alla quindi alla lotta contro disoccupazione e alla responsabilizzazione individuale per uscire dalla povertà e dall'indipendenza anche nel dato dell'ottantadue che questo quindi condiziona il dibattito politico e ciò praticamente da qui parte secondo me la diffidenza italiana verso il dibattito su misure di lotta la povertà che vadano oltre la condizione comunicistica della cittadinanza quale ad esempio il reddito di cittadinanza quello vero e mi taccio il momento della discussione quindi professoressa il suo grazie salve a tutte a tutti allora secondo me questo panel ha il grande pregio di rimettere al centro della discussione degli storici il tema dei diritti sociali che sappiamo è stato oggetto di una grande attenzione soprattutto da parte dei giuristi ma io credo che meriti ulteriore declinazioni sul piano storico soprattutto direi nel momento attuale in cui da un lato crescono anche le retoriche volte a disgiungere diritti sociali e diritti di libertà e dall'altro si mostra tutta l'urgenza di tornare a ragionare attorno al tema dei diritti sociali del welfare e del welfare in una prospettiva come dire che riesca a mettere insieme passato presente e futuro ora il tema dello stato sociale effettivamente è tornato molto a essere al centro del dibattito delle politiche dopo anni in cui le sue ragioni costitutive si erano smarrite un po' schiacciate da politiche di contenimento e diciamo da soprattutto il nome dell'austerità e del mercato un esempio un po' visto che è stato scettato di quelle retoriche reazionarie che metteva in luce tanti anni fa Hirschman nelle sue analisi relative alle resistenze al cambiamento sociale ecco dai contributi al panel emerge con molta chiarezza come lo studio dello stato sociale si presti e dei diritti sociali lo prendo un po' in senso più esteso poi ci torno si presti non solo a essere uno studio interdisciplinare ma soprattutto in ambito storico uno studio che chiama in causa una molteplicità di protagonisti e una pluralità di piani di interpretazione di fatto come si evince dai contributi a fianco delle incompiutezze delle contraddizioni che hanno segnato un po' tutta la storia dei diritti sociali del welfare occorre invece segnalare molte esperienze che hanno coinvolto i diversi ambiti dello stato sociale in più momenti storici e ne emerge un proficuo intreccio tra protagonisti di varia natura privati pubblici formali informali che chiamano in causa istanze soggettive elementi strutturali proposte ma anche esperienze soprattutto di varia natura e vari percorsi biografici istituzionali professionali un intreccio che consente di allargare l'oggetto di indagine dello stato sociale estendendolo oltre i confini tradizionali allargandolo anche ad ambiti di ricerca che non sempre sono stati coinvolti nella storiografia nella letteratura consueta e combinando più fattori nuovi e direi anche comprendendo vicende quelle ottocentesche capaci di arricchire un po' il quadro d'insieme ma anche i dettagli di questa vicenda giustamente nel sottotitolo del panel si dice protagonisti pratiche retoriche del welfare italiano includendo oltre all'ambito quindi politico quello culturale delle culture politiche quello discorsivo tra virgolette ideologico delle retoriche quello dell'azione sociale dei diversi soggetti coinvolti e anche quello dei conflitti mi sono tornate in mente devo dire leggendo e ascoltandovi le preziosi indicazioni di Pietro Costa in un saggio del duemiladiciassette relativa all'importanza di una metodologia di lavoro che analizzi che guardi allo stato sociale come un prodotto di pratiche e saperi diciamo che usi una metodologia quindi capace di ricostruire le cosiddette esperienze welfareiste come la risultante di un insieme di pratiche saperi apparati istituzioni è chiaro che c'è il rinvio alla lezione di Foucault e in particolare anche al concetto di governamentalità ma credo che diciamo mi è proprio venuto in mente ascoltandovi in fondo anche nella ricostruzione che abbiamo fatto con Ilaria Pavanna della storia dello stato sociale in Italia l'intento è stato un po' di ricostruire il quadro sociale economico politico istituzionale attorno delle esperienze attorno al welfare dando conto non solo dei provvedimenti anche un po' noiosi ma anche delle culture politiche che ne sono state alla base dell'azione sociale dei vari soggetti coinvolti dei conflitti attorno alle politiche di welfare dei protagonisti istituzionali politici culturali appunto che vi presero parte nella convinzione che andasse seguito e vada seguito un approccio interdisciplinare di storia istituzionale sociale politica culturale economica e di genere e anche nella convinzione come emerge dalle vostre relazioni che siano centrali anche tentativi esperienze di riforme di discussione anche se poi non giungono a esiti concreti a esiti appunto immediati ma comunque che incidono in modo carsico e che comunque hanno rilevanza rispetto allo sguardo degli storici infine un'ultima considerazione poi mi soffermo rapidamente su i vari paper allora generale questa considerazione che riguarda a mio parere la profonda connessione stato diciamo richiamato contro anche interpretazioni evoluzionisti penso soprattutto a Marshall per primo quindi la profonda connessione tra storia dei diritti sociali e storia delle libertà tradizionali e welfare e alla connessione anche che riguarda il concetto e le vicende dell'uguaglianza ora i diritti sociali derivano direi dall'affermazione dell'uguaglianza effettiva concreta sostanziale e costituiscono un connotato fondamentale della democrazia al pari di diritti fondamentali che nascono come dire dal tronco dell'idea di libertà e io credo che rimettere al centro dell'attenzione degli storici diritti sociali significa misurarsi con quella grammatica dell'uguaglianza sostanziale che ha informato sempre di sé la storia dei conflitti moderni e significa anche mettere in discussione questa narrazione che c'è stata per lungo tempo evoluzionista lineare che li ha considerati i diritti sociali come diritti aggiuntivi giustapposti rispetto ai diritti di libertà tra l'altro mettendo il fatto che i diritti sociali sono diritti abilitanti rispetto a quelli civili di libertà come scriveva uno degli autori dell'articolo tre che è stato giustamente richiamato Massimo Severo Giannini scusate i diritti sociali nascono dal principio di uguaglianza e un'uguaglianza che non è più soltanto quella formale legale che si ritrova in alcune prime dichiarazioni dei diritti moderni e sono da intendersi come altrettanto fondamentali come patrimonio inalienabile degli esseri umani condizione della democrazia di cui fanno parte diritti a cui dovrebbero rispondere obblighi doveri doveri pubblici obblighi che appunto richiedono prestazioni positive welfare ora e non a caso appunto la base di legittimazione dell'intervento pubblico è quella dello stato sociale ora io mi concentrerei rapidamente sui singoli paper io seguo scusatemi l'ordine non cronologico non so perché ho scelto questo ordine ma quello alfabetico allora che è molto peggio mi rendo conto però vabbè perdonati ma oramai mi viene così Boscarello sono molto favorevole a non considerare le esperienze mutualistiche e cooperativistiche come una storia a parte separata addirittura arretrata rispetto a quello dell'intervento pubblico sociale che anzi si è giovato di queste esperienze o comunque ha intessuto con queste come 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 Boscarello fa ben vedere un rapporto talvolta conflittuale talvolta complementare lo fa vedere anche giustamente sulla scia degli studi di Maria Grazia Meriggi ma anche direi di quelli di Pino Ferraris in termini generali possiamo dire che la storia del welfare italiano soprattutto nel secondo dopoguerra ha attraversato quella che definirei l'azione collettiva dei vari soggetti sociali ossia parte sindacati ma soprattutto in questo caso il mondo dell'associazionismo le organizzazioni filantropiche reti informali di solidarietà e via dicendo e che vi è stato un rapporto tra queste esperienze e le istituzioni del welfare tra queste due sfere un rapporto peraltro complesso sfaccettato differente a seconda dei periodi che ne so per esempio nell'immediato secondo dopoguerra di indifferenza e stranietà negli anni ottanta di collaborazione ora se questo vale per il secondo dopoguerra lo sguardo di Boscarello si concentra giustamente alle radici di questo fenomeno e in particolare su quelle esperienze che per la loro proprio connotazione strutturale avevano lo scopo di dare vita a forme cosiddette di self-help a favore delle classi lavoratrici le vicende del mutualismo e del movimento cooperativo allora in questo senso rappresentano un momento molto importante della storia dei diritti sociali e del welfare prendendo questa espressione direi in senso proprio letterale cioè come appunto benessere e leggendo la storia del welfare come una storia soprattutto di giustizia sociale resta che le vicende come anche egli metteva in evidenza le vicende del mutualismo siano segnate da elementi contraddittori da elementi di ambivalenza nella misura in cui si diceva bene disincentivarono forme di intervento pubblico a favore delle cosiddette classi subalterne o viceversa consentirono l'affermazione di alcuni diritti sociali soprattutto nel caso della Francia nell'agenda politica e pubblica accrescendo la consapevolezza dei lavoratori e creando strumenti affinché essi potessero far fonte ai propri bisogni autotutelarsi rispetto ai gravi disagi della propria condizione lavorativa autorganizzandosi contro le prime forme distruttive chiamiamole così del capitalismo e questo è molto interessante il paragone che Boscarello fa tra Italia e Francia peraltro sappiamo che la Francia nella Costituzione ma è entrata in vigore Giacobbina del 93 annoverava i diritti sociali anche l'atteggiamento delle classi dirigenti a mio parere significativo perché oscilla tra un riconoscimento per lo più confinato però all'ambito dei diritti civili e che quindi spesso si traduce diceva anche lui in termini di deresponsabilizzazione oppure un atteggiamento di opposizione quando di solito vengono minati gli equilibri di classe e si rafforza il movimento operaio quindi direi che l'ambivalenza è molto interessante ed è un tratto costitutivo del movimento cooperativo e del mutualismo e si lega anche al ruolo conflittuale che oppure o meno che le varie associazioni di mutuo soccorso hanno avuto e nasce anche lo ricordiamo come un fenomeno a cavallo tra filantropia e prime forme di organizzazione del movimento operaio e diciamo con tutto quello che ne consegue rispetto alla finalità politica che prevale se più paternalistica filantropica oppure più orientata a principi e a pratiche di uguaglianza e solidarietà e sono molto d'accordo come dice Boscarello che l'Italia è un caso estremamente interessante proprio per la compresenza di tendenze politiche eterogenee all'interno del movimento cooperativo certo è che nell'esempio che Boscarello riporta si chiamiamo l'esempio siciliano per rapidità che diciamo rivendica anche a cui lui faceva riferimento rivendicare diritti all'assistenza e all'istruzione forme di contrattazione come dire sindacale forme di regolamentazione del lavoro ecco io direi che questo rappresenta una soglia molto avanzata delle rivendicazioni sociali e in fondo ci mostra questa stessa natura politica intensamente politica come scrisse un giurista dei diritti sociali come diritti che sono contrassegnati da un elemento sicuramente di pretensività ma anche di redistributività e quindi diciamo io forse quello che vorrei che lui indagasse maggiormente è come queste esperienze di auto-organizzazione siano connesse a tra virgolette il farsi della classe operaia e come siano connesse ai processi di soggettivazione dal momento che si trattò di esperienze intraprese oltre che dagli operai artigiani donne contadini per auto-amministrarsi dotandosi quelle che potremmo definire istituzioni nuove comuni di solidarietà mutuo mutuo sostegno economia sociale e affermando anche in esse la propria soggettività le proprie istanze di emancipazione e poi lo inviterei diciamo a indagare ancora come si sia voluta lui giustamente citava il fascismo questa storia successivamente insomma è un po' un invito a scriverne una 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 diciamo una storia di più ampio respiro e sul lungo periodo perché credo che sia più che mai importante eh Silvia Inaudi allora io ho molto apprezzato in questo confronto Silvia tra le due inchieste chiamiamole l'inchiesta il rapporto e anche eh quella successiva eh che io forse conosco di più c'è la commissione eh Gorrieri che però come giustamente fermi tu è legata al rapporto e eh e questo ci consente tra l'altro di affrontare questo grande tema della povertà che è diventato diventato pure pure esso mh oggetto molto importante oggi nel dibattito pubblico ma anche in quello scientifico penso all'ultimo bel volume di Chiara Saraceno Benassi e Morlicchio dedicato proprio a il regime di povertà come viene chiamato italiano eh quello che credo che ci sia da evidenziare eh come tu stessa adesso dicevi eh in questo confronto sono i due contesti molto diversi in cui si collocano inchiesta e rapporto ehm e soprattutto la diversa formulazione del del tema e del del problema della povertà infatti gli elementi di differenza chiamiamoli attengono le diverse strutture economiche e sociali di un'Italia contadina degli anni cinquanta e di un'Italia eh dell'Italia molto diversa eh degli anni eh settanta inizio anni ottanta la povertà a cui ci si ferisce nell'inchiesta sulla miseria è quella che deriva soprattutto direi da una realtà agricola eh arretrata e la povertà invece successiva a cui ci si riferisce nel rapporto è eh quella dell'Italia degli anni settanta eh di una realtà urbana sempre più post industriale la prima quindi si situa in un contesto connotato da una da una realtà familiare stesa in cui per esempio le donne presenti sul mercato del lavoro sono ancora molto poche nella seconda i poveri sono soprattutto coloro che sono ai margini del mercato del lavoro disoccupati o esclusi cosiddetti comprese le stesse donne che oramai sono sempre più presenti eh povere in alto numero eh in in sulla sul mercato del lavoro è anche diverso il rilievo dello stesso mercato del lavoro no? Nelle modalità di ottenimento di condizioni di vita dignitose prima le condizioni strutturali agricoltura autoproduzione capacità di autosussistenza avevano un ruolo molto eh rilevante col insomma successivamente la causa di principale di povertà direi è ricondotta alla insufficienza di reddito ottenuto sul mercato del lavoro certo ciò che resta costante che si gli ha avuto solo il tempo di accennare in entrambe per entrambe le realtà è la mancanza di politiche di welfare a sostegno del reddito dei bisognosi come sappiamo e lo sappiamo e lo risappiamo il welfare e lo vediamo tutt'oggi il welfare italiano rimane segnato dall'assenza di misure adeguate al sostegno al reddito dei senza lavoro dalla prevalenza note arcinota dei tratti occupazionali e ribadirei dalla debolezza dei servizi sociali e lo stesso modello beverage che prevedeva misure di reddito minimo unitario di fatto rimane molto debole la garanzia di un reddito sufficiente ad affrontare le responsabilità che che incombono su ogni essere umano nel cittadino nel corso della propria vita resta in Italia subordinata anche nei programmi delle forze politiche di sinistra e del sindacato alla predilezione per il comparto lo sappiamo compensionistico con la conseguenza di forti ritardi in queste misure di sostegno al reddito dei senza lavoro o dei cittadini bisognosi e la conseguenza dei forti ritardi nella riqualificazione dell'ambito assistenziale d'altronde come si dice bene nel paper specie per le politiche quindi relative all'assistenza e alle misure di sostegno al reddito molte delle proposte che sono state fatte penso poi alle proposte contenute oltre che nella commissione Gorrieri che proponeva l'assegno sociale cosiddetto e poi la commissione del 97 Onofri che giunge a proporre un istituto di minimo vitale purtroppo appunto queste proposte non sortiranno per lungo i tempi effetti gli effetti sperati e in termini generali quel che emerge è che la questione della povertà questo diciamo ora non si può scollegare dalla distribuzione del reddito e delle disuguaglianze perché è l'esito soprattutto di un processo economico e sociale in cui a pesare sono i rapporti di produzione e riproduzione sociale e quello anche che emerge è che se c'è un tratto costante del cosiddetto regime di povertà italiano soprattutto c'è una concentrazione di povertà nelle famiglie numerose nel mezzogiorno però si sono sempre più affiancati negli anni più recenti trasformazioni che hanno investito il mercato del lavoro e la famiglia cioè il mercato del lavoro è sempre più caratterizzato da bassi salari impieghi intermittenti e le famiglie sono sempre meno in grado di assicurare protezione dai rischi sociali l'effetto è quindi non solo che si aggravano i tradizionali rischi di povertà ma anche che ne sorgono nuovi di continuo la povertà per esempio si diffonde sempre più al centro nord e colpisce anche famiglie mononucleari poco numerose Serina scusate ma diciamo il tempo corre arricchisce a mio parere il quadro delle conoscenze rispetto agli orientamenti del mondo cattolico e della Santa Sede in tema di assistenza ai diritti sociali e in fondo ci invita anche a mio parere questo almeno io così l'ho letto a indagare ancora attorno a quelle che definirei le contraddizioni presenti nel rapporto tra mondo quattorico e welfare state building se infatti da un lato lo sappiamo è stata sin dalla guerra cioè sempre più sin dalla guerra e dall'immediato secondo dopo guerra un forte impegno della chiesa ad organizzare e chiamiamo diciamo per rapidità dico così lavoratori cattolici aggiornando i principi della dottrina sociale cristiana dall'altro però la radicata presenza del mondo cattolico nell'ambito assistenziale con una delega intendiamo bene che è stata ad essa lasciata da parte dello Stato ha ritardato lo sviluppo di politiche pubbliche in ambito assistenziale eh il mondo cattolico direi fu segnato forse più di altre da elementi appunto come dire anche contraddittori che poi si videro molto bene nello stesso operato della democrazia cristiana d'altra parte la persistente presenza dei cattolici nell'ambito dell'assistenza quindi ripeto se per un verso è stato segno di un nuovo e rinnovato protagonismo cattolico nel campo sociale di una ripeto valorizzazione della dottrina sociale cristiana per l'altro verso peserà sempre più rispetto ai ritardi nella creazione di un adeguato sistema di servizi pubblici sistema lo sappiamo pubblico al quale la chiesa ha opposto più volte resistenza compensando al tempo stesso questo parente intervento pubblico in ambito assistenziale il caso studiato da Serina ci aiuta allora diciamo dicevo prima ad arricchire il quadro di quanto sappiamo rispetto al rapporto tra mondo cattolico e santa sede diritti sociali welfare facendo anche luce sulle diverse interpretazioni che si diedero tra assistenza pubblica e privata tra forme di autonomia della funzione assistenziale e intervento dello Stato tra l'iniziativa individuale e il protagonismo dello Stato nella società questo anche in ordine alle linee di continuità o agli scarti presenti nel variegato mondo cattolico tra concezioni caritatevoli tradizioni caritative scusate tradizionali e orientamenti nuovi d'altra parte è chiaro che il quadro cattolico è stato definito giustamente da Moro quello diciamo che si definisce per un'ampia pluralità di progetti cattolici già a partire dagli anni dalla metà degli anni trenta e quindi diversi furono i contributi volti in questa pluralità dicevo diversi furono i contributi volti a perseguire gli obiettivi di maggior interventismo sociale volti a offrire un'erettura nuova del tema dell'uguaglianza volti a prefigurare i caratteri di una nuova democrazia sociale e volti anche a fermare la centralità del personalismo grande tema chiave di allora di allora e io credo quindi che per certi aspetti il retaggio della dottrina sociale cattolica espressasi ad esempio nell'avanzata elaborazione del codice di camaldoli del quarantatré poi come è stato ricordato da Serina in sede di assemblea costituente così come la spiccata sensibilità di ampi settori del mondo cattolico che si accresce nel periodo bellico e soprattutto post bellico orienterà sempre di più parte di esso in direzione di un maggiore impegno sociale nella direzione di una significativa mobilitazione territoriale soprattutto negli anni sessanta con il concilio vaticano secondo e di una rinnovata attenzione nei confronti dei temi della giustizia sociale ehm diciamo verso attenzione nei confronti della della diciamo della dignità sociale nei confronti del tema dell'autosufficienza degli esseri umani questo è un elemento innovativo molto importante a cui quindi si accompagnerà sempre più negli anni sessanta e poi settanta il forte impegno eh cattolico cristiano per denunciare anche i problemi strutturali del paese le cause come si diceva dei mali cito lo statuto della Caritas del settantuno che non a caso nasce poco dopo la fine dell'esperienza della pontificia opera di eh assistenza e e infine eh vengo a Pulvirenti ecco io di Pulvirenti sottolineerei due elementi importanti perché diciamo il terzo non c'è tempo e quindi lo taglio ehm e perché Pulvirenti ci eh è in continuità un po' con Serina per certi aspetti perché ci spinge ad andare alle origini di alcuni dei progetti più ambiziosi di cambiamento sociale che presero forma durante la seconda guerra mondiale e direi già durante come dice lei anzi gli anni trenta quando in relazione alla grande questione della crisi di civiltà europea maturarono in ambienti diversi giovani cattolici ma anche molti giovani gius pubblicisti ehm nuovi orientamenti rispetto alla necessità di una trasformazione profonda economica e sociale del paese da questo punto di vista le stesse basi della nuova formazione dell'edificio democratico di una democrazia scusate se intervengo giusto due secondi solo per dire che abbiamo non di più del tempo fino all'una e cinque va bene ho finito dicevo grazie che appunto dicevo quando le basi pongono nel diciamo nel laboratorio degli anni trenta le basi della della formulazione di un nuovo edificio democratico e si sitono appunto in questo laboratorio degli anni trenta il laboratorio della grande trasformazione di Polani per essere sintetica e dei primi anche anni quaranta quando giunge anche a come si dice scusate la fretta quando giunge a maturità anche la consapevolezza di un necessario abbandono dei principi dell'SFR e quindi anche di una problematizzazione in termini nuovi del rapporto dello Stato nella vita economica e quindi si elaborano cominciano a elaborarsi nuovi modelli istituzionali fondati su un nuovo intervento pubblico nei rapporti economici e capaci di riconfigurare diritti e doveri di cittadinanza e di dar vita a nuove politiche sociali il secondo tema è quello delle influenze apportate dalla politica rusveltiana rispetto al nuovo intervento dello Stato in economia e rispetto al nuovo edificio del welfare e su questo Pulvirenti torna su un tema in parte indagato dalla storiografia che è quello del contributo fornito dai cosiddetti tecnici esperti rispetto a nuovi modelli di intervento sociale contributi che vengono soprattutto dagli Stati Uniti che attecchiscono in molti contesti locali e il confronto con le esperienze avanzate presenti fuori dall'Italia l'influenza di esperti e figure professionali qualificate nel campo del welfare hanno avuto un ruolo molto importante anche nella formazione di nuovo personale impiegato nelle cosiddette agenzie pubbliche di welfare è anche il grande tema delle culture dell'amministrazione ecco io credo quindi che questo nuovo modello di intervento che si delinea subito dopo la seconda guerra mondiale o durante quel periodo prenda forma da questa interazione che coinvolge tanto gli esperti tecnici anche alleati quanto i nuovi soggetti che si trovano nelle condizioni di bisogno certo poi bisognerebbe indagare questa che poi la tensione dello stato sociale cioè quanto tutto questo sia a metà tra anche logiche di controllo integrazione pacificazione quanto sia anche il portato dell'estendersi dei programmi di welfare concludo mi piacerebbe soffermarmi sul grande tema della prima ma soprattutto della seconda guerra mondiale ma su quello diciamo soprattutto il contesto inglese ci insegna molto ringraziando molto Chiara Polvirenti e tutti i partecipanti e i relatori per averci avermi costretto a riflettere a cercare ancora come diceva Claudio Napoleoni su questo tema perché io credo che questo sia davvero un tema che ci diciamo che ci apre a sfide importanti sia del presente sia del futuro quindi vi ringrazio moltissimo il tempo per qualche risposta telegrafica Samuel vuoi iniziare il microfono come sempre si succede sempre tutto grazie mille le suggestioni il punto naturalmente il tempo è poco però già nella mia ricerca sui fashion veramente una ricerca in progress che fa parte di un progetto di ricerca che ha un respiro più ampio una periodizzazione che in realtà parte proprio dal 48 e finisce fino alla fine del secolo praticamente si comincia a vedere anche andando a studiare a livello micro le esperienze dei fasci in che maniera c'è un processo di autoapprendimento dei meccanismi della cooperazione da parte degli operai stessi e non solo degli operai perché per esempio uno dei principali esponenti del movimento cooperativo siciliano è un ex impiegato comunale Bernardino Verro e si capisce proprio in maniera plastica come questi effettivamente inizialmente fanno un sacco di errori non tengono conto dei calcoli attuariali quando fanno le mutue assicurative e così via ma nel corso degli anni diciamo tra repressione di costituzioni un atteggiamento anche appunto abbastanza ambivalente da parte delle autorità che in certi contesti reprimono in altri contesti avvantaggiano pure e così via effettivamente imparano a mettere su forme di cooperazione sempre più complessa vorrei poterne parlare molto più a lungo però toglierei spazio a insomma alle mie colleghe per cui perdonatemi per qualunque cosa contattatemi via email sui social e così via e ne parliamo quanto non vogliamo Silvia fai Silvia ringrazio Chiara delle osservazioni quelle a tutti perché veramente come al solito fa un quadro globale preziosissimo e sì il tempo è stato è stato tiranno io credo veramente che la questione della povertà sia stata dagli storici e dagli storici italiani in particolare analizzata molto poco e che per comprendere la questione appunto non solo dello sviluppo delle politiche sociali ma anche la questione di come è stato pensato lo sviluppo in questo paese sul lungo periodo sia e il rapporto tra la classe politica e le classi marginali sia un problema fondamentale e per cui appunto auspico di poterlo se ci saranno il tempo i finanziamenti anche è un tutto bisogno di dirlo auspico di poterlo approfondire e approfondire maggiormente perché si colloca proprio cioè la questione della cittadinanza sociale e e la questione dell'atteggiamento verso la proprietà secondo me sono due problemi veramente fondamentali per comprendere anche la società d'oggi dobbiamo chiudere Elena se devi dire qualcosa se no vi ringrazio tutti e chiudiamo perché ci hanno scritto super telegrafici dobbiamo grazie dei commenti e sì il mio intento sarà quello della mia ricerca di coniugare in qualche modo il tradizionale settore della storia della chiesa di solito è concentrato un po' su se stesso con la storia del welfare e aprirlo anche un po' di più e far comprendere anche perché no gli studiosi di welfare di riti sociali anche la pluralità di questo mondo cattolico a cui lei accennava quindi grazie va bene ci risentiamo via email perché sono curiosa del terzo punto grazie a tutti mi dispiace che non sia stato possibile grazie grazie a voi a tutti quanti ciao arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie arrivederci grazie a tutti